musica 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 all right what time is it? show time buonasera a tutti signore e signori ragazze e ragazzi inizia il nostro show con un forte applauso di incoraggiamento grazie applausi applausi innanzitutto ci presentiamo noi siamo in nothing to lose un acclutamento il primo è Samir dal marocco un forte applausi parvo carmelo della sicilia e il senso della salvezza oggi siamo qua a Torino per farvi vedere il nostro spettacolo ma per farlo meglio ci serve la vostra energia ciò c'è freddo se non ci date energia non riusciamo a ballare bene signora giusto? quindi volete applaudire, urlare e fischiere prendere i bambini e lanciarli per aria fate rumore come meglio credete e ora i nostri manager lui lui è Gennaro il cabello avaro lei è Marta che accetta soldi di carta e infine abbiamo stallone lasciateci un centone ok ragazzi ragazzi me lo lascio qua che ti devo rinchiere me lo lascio qua che ti devo rinchiere grazie grazie grazie